Perché sembrava una follia? Perché Internet era l'inizio e quindi l'uso di Internet già in partenza era funzionale a un certo risultato. Ora, Arte Futura invece nasceva con l'idea di raccogliere un numero elevatissimo di opere d'arte, fotografie, poster, cataloghi d'arte, libri d'artista, riviste d'arte, cioè tutto quanto concerne l'arte. È chiaro che è un'impresa infinita, molto faticosa, perché intanto bisogna procurarsi il materiale che non è facilmente reperibile ed è costoso, ma soprattutto il punto centrale che non è stato capito del nostro lavoro, mi scuso se uso questa espressione, ma mi sembra inevitabile, è che a differenza di tutti gli altri portali dell'arte, il nostro è un portale che offre un servizio assolutamente gratuito. Non c'è dubbio che vedere un'opera d'arte dal vivo ha un'efficacia, un impatto diverso che vederla sullo schermo, sul web. Resta il fatto che talune opere, mi riferisco per fare un esempio solo ai primordi, alle opere d'inizio di Andy Warhol, sono praticamente nell'impossibilità di essere viste dalla grandissima maggioranza, la quasi totalità delle persone. Altrettanto dicasi per artisti che ormai non sono più, come dire, esposti con molta frequenza nelle fiere, nelle aste, eccetera, solo occasionalmente. Penso per esempio a St. Francis. E quindi tutta una serie di opere sono state messe sul portale per rendere possibile quantomeno un primo approccio di conoscenza a queste opere. Quindi uno stimolo per approfondire e stimolare l'approfondimento della conoscenza degli artisti che eventualmente interessano. Tutto questo ha avuto ed ha un costo elevatissimo che non è stato supportato da nessuno perché non aveva questa spettacolarità come ha una mostra in una sede prestigiosa, eccetera. Quindi si vedono per esempio delle mostre, palazzo reale piuttosto che alla triennale, piuttosto che altre parti, tutti i logo di Enel, delle banche e compagnia bella. Qui non c'era nulla di particolarmente spettacolare. Era un'opera culturale che aveva lo scopo appunto di informare senza altri. E quindi tutta questa spesa, tutto questo lavoro è stato affrontato faticosamente da me e realizzato gradatamente. È un work in progress, quindi continua ad arricchirsi di contenuti, di testi critici, di tutta una serie di cose che però non sembra. Si parla tanto di difesa, di amore della cultura, di interesse per l'arte, però temo, non vorrei sembrare lamentoso, ma temo che la stessa esistenza di arte futura, il lavoro, il background culturale che c'è dietro dimostrino, forse il contrario, che dimostrino che le code che si formano nel vedere mostre sono indotte dalla pubblicità dei media, eccetera. Quando invece, come nel caso di Arte Futura è una libera scelta, che noi nella pagina di registrazione chiediamo semplicemente a chi vuole, ovviamente, liberamente, di contribuire secondo le proprie possibilità. Ebbene, in vent'anni di lavoro, il portale è nato nel 1994, siamo nel 2014, in vent'anni di lavoro, con queste mole enorme, perché poi ci sono costi di carattere tecnico, cioè per realizzare tecnicamente il portale è necessario fare ricorso a tecnici che vogliono essere pagati, quindi c'è anche un costo piuttosto rilevante. In vent'anni di lavoro noi abbiamo raccolto qualcosa come 470 Euro. Penso che sia una dimostrazione abbastanza evidente e chiara di quanta stupidità, di quanta ignoranza di fondo ci sia in Italia, perché noi abbiamo creato questo portale in Italia. Può sembrare offensivo, io non voglio offendere nessuno ovviamente, non è personalizzata questa mia considerazione generale, però è un fatto, è un fatto assolutamente laparissiano, che avendo la disponibilità di leggere testi, di controllare cataloghi, di vedere cose, questo portale probabilmente se fosse nato in un altro paese, magari anche col supporto degli organi competenti, come si dice, non avrebbe avuto un successo enorme. L'Italia non è che aveva avuto un successo enorme, non è stato completamente ignorato, è completamente ignorato. E quelli che visitano il portale sono imparecchi, c'è una minoranza esigua, abbiamo detto prima, 470 Euro in 20 anni. Di fronte a questo io mi auguro che venga capita la crudezza della mia esposizione, che mi pare del tutto giustificata, perché qui non stiamo parlando di chiedere qualcosa o di fare un qualcosa per qualcuno. Qui è assolutamente un servizio culturale di informazione che non ha altri fini. Cioè non è che noi facciamo pubblicità a un artista piuttosto che a una galleria, piuttosto che a noi stessi, assolutamente no. Noi ci limitiamo a raccogliere, continuiamo a raccogliere con un lavoro da certosino, perché chiunque abbia una minima dimestichetta con il web sa che è un lavoro non semplice, il fatto dell'uso del photoshop, insalimento in rete, eccetera, eccetera, opera per opera. Quando le opere, come nel nostro caso, cominciano a essere decine di migliaia, è un lavoro enorme, che nei paesi normali è supportato dagli organi pubblici, quelli cosiddetti preposti alla cultura e anche magari sovvenzionato da queste società che usano la cultura per la pubblicità loro. Noi siamo fuori da tutto questo, non è che abbiamo scelto di essere fuori per essere onesti, siamo fuori semplicemente perché abbiamo privilegiato il lavoro di approfondimento, di raccolta, eccetera, eccetera, piuttosto che l'aspetto di marketing, di promozione, andando in giro a cercare supporti politici, di appoggi politici, economici, eccetera, eccetera, forse non siamo capaci a fare, forse abbiamo sbagliato tutto, non voglio per carità, questo è un fatto, però arte futura è qui, la pagina dell'edistrazione è sempre presente, le opere sono visibili da chiunque, esiste sull'ompese un motore di ricerca, uno cerca un artista e nel 95% dei casi lo trova, si guarda le opere, si legge i testi di filosofia dell'arte, il sottoscritto scrive settimana per settimana con una certa regolarità e quindi fruisce di un servizio culturale modesto, discutibile, impreciso probabilmente in molti aspetti, nessuno è perfetto come si dice, però è un lavoro che noi abbiamo fatto e stiamo facendo. Questa mia presentazione nasce dal fatto che le persone con le quali capita di parlare esprimono molto entusiasmo per il lavoro. Il tempo fa è uscito anche un articolo sul sole 24 ore di Galimberti, ma i risultati sono stati praticamente nulli e quindi offriamo questo mio crudo, ne mi scuso per la mia diretta franchezza, considerazioni vere e ognuno tragga le conclusioni che crede. Noi proseguiremo nel nostro lavoro a prescindere dal fatto che non vengano valutate e considerate quantomeno come quantità di lavoro per come forse penso dovrebbero. Vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera.